Nicola Verde è autorevole membro del direttivo nazionale IOM e primario di oncologia medica all'ospedale Sacco di Milano. Nicola, qui in questo ESMO 2024 hai presentato uno studio importante di Real Life. Di cosa si tratta? Dunque, ho presentato i risultati dello studio SARE Life, che è uno studio italiano di Real Life in cui hanno partecipato 27 centri italiani che in meno di un anno hanno arrolato 121 pazienti con tumore mammario triplo negativo con secituzumab govitecan. L'obiettivo dello studio era quello di valutare la tossicità, la tollerabilità del farmaco in una popolazione che fosse al di fuori dello studio clinico e di fatto, ve lo dico subito, la cosa positiva è che non abbiamo trovato eventi avversi differenti rispetto a quelli dello studio registrativo e peraltro la percentuale degli eventi avversi di tossicità sia ematologica che non ematologica è stata sovrapponibile. Questo ci ha molto incoraggiato visto che comunque noi trattiamo pazienti che come sappiamo sono diversi rispetto a quelli che vengono arrolati negli studi normalmente. Inoltre abbiamo fatto anche il test di drug-drug interaction e abbiamo visto che non è risultato alcun tipo di interazione farmacologica tra i farmaci che le pazienti prendevano per le loro patologie di morbidità tipo ipertensione, diabete eccetera con il secituzumab govitecan. Inoltre abbiamo considerato anche le pazienti che stavano effettuando contemporaneamente al trattamento o nel mese precedente o nel mese successivo una radioterapia e anche in questo caso non abbiamo trovato un aumento della tossicità. Infine i dati molto interessanti sono stati anche quelli relativi alla progression free survival che è stata sovrapponibile a quella dello studio Ascent, lo studio registrativo e ancor meglio abbiamo performato rispetto all'over survival che addirittura è un risultato migliore di qualche mese rispetto a quello dello studio registrativo. Quindi a mio modo di vedere Sacituzumab si conferma essere un farmaco efficace e sicuro anche nella popolazione generale e questo può essere incoraggiante questo dato quantomeno diciamo di tollerabilità potrebbe essere interessante anche per gli sviluppi futuri del farmaco in altri setting in cui gli studi clinici in corso potranno posizionarlo. È interessante questo fatto che sempre più nei congressi internazionali si parla di real life e di studi di questo tipo quindi la real life diventa sempre più strategica ed entra anche nella pratica clinica. Certamente anche perché la storia dell'oncologia ci dice di come farmaci magari efficaci poi nella real life hanno dato degli eventi avversi talmente importanti che gli oncologi non sono riusciti ad utilizzarli perché i pazienti non li tolleravano. Pertanto visto che negli studi clinici per ragioni sociali, culturali, anche geografiche partecipano pazienti selezionati è sempre molto importante vedere poi nella vita normale che cosa succede cioè come quel farmaco performa anche il rapporto alle altre patologie che i pazienti hanno.